Le poste italiane offrono una vasta gamma di servizi ai loro clienti, tra cui la possibilità di pagare bollettini direttamente dagli ATM Bancomat. Questa opzione è particolarmente comoda per chi desidera evitare le lunghe code agli sportelli o semplicemente per chi preferisce un metodo di pagamento veloce e autonomo. In questo video ti spieghiamo esattamente come fare passo per passo. Ricati all'ATM delle poste italiane. Trovi un ATM delle poste italiane vicino a te. Questi sono solitamente situati vicino o all'interno degli uffici postali. A questo punto inserisci la tua carta Bancomat o Postemat nell'ATM. Segui le istruzioni sullo schermo per inserire il PIN quando richiesto. Seleziona l'opzione Pagamenti. Una volta accesso al menu principale, cerca e seleziona l'opzione Pagamenti o una dicitura simile. A questo punto scegli i bollettini. Dopo aver selezionato Pagamenti, dovresti vedere un'opzione per bollettini. Clicca su di essa. A secondo del tipo di bollettino che stai pagando, bianco o premarcato, ti verrà chiesto di inserire i dettagli pertinenti, come il numero di conto, l'importo e altri dettagli rilevanti. Segui attentamente le istruzioni nello schermo. Conferma il pagamento. Dopo aver inserito tutti i dettagli, rivedi le informazioni per assicurarti che siano corrette. Se tutto è in ordine, procedi con la conferma del pagamento. Ricevuta di pagamento. Una volta confermato il pagamento, l'ATM emetterà una ricevuta come prova del tuo pagamento. È consigliabile conservare questa ricevuta fino a quando non ricevi una conferma che il pagamento è stato elaborato correttamente. Concludi la transazione. Ritira la tua carta e assicurati di avere tutti i tuoi effetti personali con te prima di allontanarti dall'ATM. Nota, alcuni ATM delle poste italiane potrebbero avere limiti giornalieri sulle transazioni o potrebbero adebitare piccole commissioni per il pagamento dei bollettini. È sempre una buona idea verificare queste informazioni prima di effettuare il pagamento. In conclusione, pagare bollettini attraverso l'ATM delle poste italiane è un processo semplice e conveniente. Seguendo questi passi, potrai effettuare i tuoi pagamenti in modo rapido e sicuro. Se hai dubbi o domande, non esitare a chiedere aiuto al personale delle poste italiane o a consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.